Fifth Avenue, quinta strada, siamo in quello che è il luogo ormai celebre in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi tempi, perché qui abbiamo la Trump Tower. Trump Tower, come potete ben ammirare, è la sua possenza, altissima, bellissima, presidenza di Donald Trump, fin quando poi andrà dal 20 gennaio a Washington, alla Casa Bianca. Come potete ben ammirare, lì si possono vedere delle telecamere che inquadrano in maniera fissa e continua l'ingresso. Potete ben ammirare. E poi vediamo poliziotti ovunque. Poliziotti lì, poliziotti, ci sono le transende, come potete ben vedere, fin dall'altra parte della strada, transende ovunque, è tutto ben controllato, non si può attraversare a piedi in questa zona, quindi si può solo ed esclusivamente stare ai bordi della strada, sui marciapiti, sia a sinistro che a destro. Quelli che si trovano in marciapiti, che si trovano dall'altra parte, è ben controllato, chiunque passa poi da là viene controllato dalla polizia. Procedi in direzione nord-ovest sui sui 255, tieni a sterti verso Madison Avenue. Potete aver ascoltato in sottofondo anche il navigatore che mi ha condotto fin qua, perché se no non ci sarei mai arrivato tra le tantissime vie. Ed ecco qua, anche qui dalla Trump Tower è tutto da Dario D'Agostino.